E' Giuseppe Pino Cavodragone, il nuovo capo di stato maggiore della difesa. La nomina è arrivata ieri. Dragone, nato da Arquata Scrivia, ma novese di adozione, dopo la maturità classica presso un liceo Andrea Doria di Novi Ligure, ha intrapreso una carriera che dall'Accademia Navale di Livorno l'ho visto protagonista di una ascesa continua verso i vertici delle forze armate, iniziata con un corso presso le scuole di volo della US Navy in Florida e nel Texas, dove ha conseguito il brevetto di pilota di velivoli ed elicotteri. Posto a comando della porta aerei Giuseppe Garibaldi dal 2008 al 2011, comandante dell'Accademia Navale nel periodo 2011-2014, ha ricoperto l'incarico di comandante del comando Interforze per le operazioni delle forze speciali e dal 1 luglio 2016 ha assunto l'incarico di comandante del comando operativo di vertici Interforze. E' sposato con la novese Rosa Fossati e ha tre figli, Michele, Umberto e Gineva Francesca. Giuseppe Cavodragone, protagonista in delicati i comandi Interforze tra esercito, marina, aeronautica e carabinieri, definisce la marina un mondo duro, selettivo e meritocratico, uno specchio che la sua carriera travolgente riflette a pieno. Molto legato alla città dei campionissimi, ha partecipato in collegamento streaming all'evento da Novi ai Poli e Ritorno, con protagonisti altri due novesi illustri, l'oceanografa Paola Rivaro e il contrammiraglio Massimiliano Nannini. L'evento, organizzato dai Rotary Club di Novi, Acquiterme, Gavi Libarna e alla presenza delle scuole, ha discusso di spedizioni antartiche, problemi legati ai cambiamenti climatici e dell'importanza che il mare rivesterà in futuro dal punto di vista economico e strategico. Concetti che io ho cari perché credo che devono essere condivisi e soprattutto devono essere presentati in una maniera più accessibile possibile alle nuove generazioni.